Amici di Telebabu e di Telefed, siamo qui ad Arezzo e questo qua, che potete vedere fino al 23 di questo mese, è il circo di Morafai, uno dei circhi più antichi, più famosi d'Italia. Questo, non potete vedere, è tutto circa 129 mese, un circo di Morafai, un circo di Telebabu e delle Calcedda, questa è una zona del circo di Morafai, uno al 23 di questo dell'ultimo circo, complimenti a tutti e anche a tutto lo staff del circo di Morafai, così da parte nostra Telebabu Web TV e Telefed, e vi consigliamo di venerci perché è stupendo, un circo di Morafai, un circo di Morafai, un circo di Morafai, un abbraccio ai prossimi video, seguiteci sempre, un abbraccio.